Oggi vi mostriamo due tipi di padelle, una dell'azienda Cecotec, l'altra linea Ross Gus. Le padelle dell'azienda Cecotec sono elaborate in alluminio fuso di alta qualità resistente alle deformazioni. Grazie al loro rivestimento in teflon nessun alimento si attaccherà. Inoltre queste padelle possono essere utilizzate per ogni tipo di cucina, anche per induzione. L'altra padella che vedete è della linea Ross Gus, realizzata con tre strati di rivestimento in pietra, particolarmente utilizzata per cotture ad alte temperature. Ora facciamo una ricetta veloce per provare le loro padelle. Versiamo un filo d'olio e rompiamo un uovo. Condiamo con sale e pepe un po' di formaggio. Come vedete l'uovo non si attacca alla padella. Ringraziamo ancora l'azienda Cecotec per averci inviato le loro padelle. Non vediamo l'ora di utilizzarle per tante ricette. Grazie.